Sono passato da ospite televisivo a volontario perché quando mi è stata diagnosticata anche la malattia genetica ho deciso di non fare come fanno purtroppo molti che guardano e dicono mi dispiace, ma ho deciso che bisogna fare qualcosa e da lì ho deciso di non girare la testa ma di riuscire a fare un qualcosa soprattutto per i bambini, una particolare attrazione per i bambini e quindi volevo aiutarli a riuscire a fare il raccoglio fondi e a dare quando posso il mio tempo per loro, questo per strapparle anche un sorriso magari in quella giornata quando siamo con loro ma soprattutto per raccogliere i fondi sperando e dando un futuro migliore a loro.